Mantenendo così il primato in solitaria, in vetta la classifica della Pool E della Champions. Vediamo. Al termine di una vincente rimonta nel quarto set che si è protratto fino ai vantaggi 25-27, la Circo Lussi Sicoma Perugia batte la formazione francese del Tour, guidata da coach Duflo per 3-1 e resta in solitaria, in vetta la Pool E. Novità nello starting six iniziale con coach Bernardi, che non avendo vincoli per il numero degli stranieri in campo, schiera Hogg dal primo minuto al posto di Filippo Lanza. Primo set di marca bianconera con la Circo che controlla bene la gara, con un buon 57% di positività in attacco. Ed è proprio l'attacco vincente di Gianluca Galassi a scrivere 19-25, primo set conquistato. La squadra francese reagisce e si porta subito avanti a più 4 in avvio della seconda frazione di gioco. Bernardi fa entrare in campo Lanza, ma i padroni di casa, reduci come la Circa dalla vittoria per 3-0, nella prima giornata della fase a Gironi, ai danni dei turchi dell'Izmir, allungano e si portano 20-15. I bianconeri calano in ricezione e non riescono ad agganciare i francesi che chiudono 25-16. Terzo parziale nel segno dell'equilibrio si va avanti punto a punto fino all'11-11. Poi la Cirra piazza il break con quattro muri vincenti. Ci pensa Vilfredo Leon a firmare l'allungo decisivo con due attacchi vincenti e i block devils si portano sul 2-1 chiudendo il set 25-19. Spettacolare la quarta e decisiva frazione di gioco che vede i ragazzi del presidente Circe autori di un'autentica rimonta sui francesi che conducono avanti per gran parte del parziale dopo un inizio punto a punto. Poi i padroni di casa si portano pericolosamente in avanti fino al 16-11. Leon con un ace riporta i suoi a contatto ma gli uomini di Di Flo allungano ancora e mirano a conquistare il tiebreak. Sul finale del set un'invasione a rete fischiata ai padroni di casa dà il via a una vincente punto a punto che si protrae fino ai vantaggi. La pipe di Leon segna il 23-23 ma negli scambi finali Tour conquista due set ball entrambi annullati dai bianconeri ed è ancora lo schiacciatore cubano a chiudere conti firmando 25-27 che chiude il set e chiude anche il match 3-1 per la Circe che resta in solitaria in vetta alla pool E.